Buongiorno a tutti e benvenuti. Ho assistito con interesse ieri, ho già sfiorato l'argomento ma ci torno volentieri sopra oggi, all'intervista che ho apprezzato, istruttiva di Fabio Capello sulla Gazzetta dello Sport. A un certo punto uno dei passaggi è stato il Milan aveva il centrocampo più forte d'Italia con Chessy, Cialanoglu, Benassere e Tonali e oggi di quel centrocampo non è rimasto più nessuno. Ed è una considerazione fatta da un grandissimo allenatore, un grandissimo esperto di calcio che io non voglio discutere, però voglio commentare con voi tutto il mondo che c'è dentro quella dichiarazione, che è una dichiarazione molto significativa, molto importante, perché vedete non voglio fare il vittimista, non voglio fare quello che si piange addosso, ma c'è una caratteristica nel mare magno delle dichiarazioni che vengono fatte ogni secondo, ogni minuto, ogni ora, ogni giorno sul Milan. Quando sono qui dei giocatori del Milan se ne parla in un certo modo, quando vanno via se ne parla in un altro. Non è il caso di Fabio Capello e non entro nel merito delle dichiarazioni di Fabio Capello che meritano il massimo del rispetto e proprio per questo il massimo dell'analisi e il massimo del commento. Però io vorrei recuperare con voi un po' di in memoria, almeno qui, perché quando è arrivato Ben Nasser al Milan la critica era che il Milan aveva fatto male a prenderlo perché era retrocesso con l'Empoli. Quando è arrivato Tonali al Milan e ha fatto male il primo anno, in certe tribune televisive si diceva che Tonali era stato un flop, una sorta di scarto lasciato al Milan dalle stranerie che prende a volte il mercato. Negli anni in cui è stato qui al Milan Cialanoglu, io al di là di percepire sulla pelle il fatto che non fosse mai diventato davvero un idolo dei tifosi rossoneri e l'atmosfera complessiva che ha sempre avuto Cialanoglu attorno, non solo da parte dei tifosi, ma in generale, assolutamente in generale, ha forse anche influito sulla sua scelta dell'estate del 2021. Non so, bisognerebbe parlarne con lui ed evidentemente non lo farò, non l'ho mai fatto. Però ricordo invece un'analisi che sentivo nelle tribune televisive, vi ricordate quando il Milan contro ogni pronostico, perché quando erano qui questi giocatori, si diceva che il Milan era una squadra mediocre, ragazzi. Quando nella stagione 2021, fino a gennaio, fino ai primi di febbraio, il Milan era rimasto in testa alla classifica, si diceva che era per caso. Eppure nel 2021 il Milan li aveva tutti questi giocatori, aveva Tonali, aveva Chessy, aveva Ben Nasser, aveva Cialanoglu, non so se ce lo ricordiamo. E quando il Milan fino ai primi di febbraio era in testa alla classifica, si diceva che era grazie al fatto che si giocava a porte chiuse, perché altrimenti i giocatori abbastanza scarsini che aveva il Milan, con il pubblico si sarebbero emozionati e non sarebbero certo primi. Questo era quello che sentivo con le mie orecchie, quando il Milan aveva Chessy, Cialanoglu, Tonali e Ben Nasser. Lo stesso Chessy, ricordo bene che nel gennaio del 2020, con Antonio Conte ancora allenatore dell'Inter, si parlava della possibilità di fare uno scambio fra Chessy e Vecino e i tifusi dell'Inter insorsero vibratamente perché non volevano fare questo scambio, perché Chessy è un giocatore mediocre, ragazzi, lo sentivo giorno per giorno nelle arene televisive che osservo, che assisto e che in alcuni casi anche frequento. Oggi vedo che c'è una rivisitazione, però è come un parlare male due volte, perché quando c'erano Chessy, Tonali e Ben Nasser e Cialanoglu al Milan, Milan è una squadra mediocre. Adesso che il Milan li ha persi, il Milan aveva il centrocampo più forte d'Italia, quindi criticato quando li aveva e criticato adesso che non li ha più, tranne Isma, che ci auguriamo possa rientrare in squadra il prima possibile. Al di là di questa mia recriminazione, al di là di questo mio pianisteo, vorrei anche cercare di capire con voi perché leggevo questa mattina l'editoriale su Milan News di Franco Ordine, che ho trovato nel massimo del rispetto e nel massimo della... che vabbè altro... che ho trovato un po' tranchant, un po' sbrigativo, un po' ingeneroso. Io se ci sono, perché qui in questi casi, quando Fabio Capello fa la sua analisi, poi si va alla ricerca delle colpe. Di chi è la colpa per il fatto che il Milan non ha più il centrocampo più forte d'Italia, dato per assodato che quando ce l'aveva non veniva giudicato il centrocampo più forte d'Italia. Però, al di là di questa minuzia, di chi è la colpa allora? Io penso che non ci siano colpe da debitare a singole figure. Penso che siano situazioni diverse fra loro, tutte e tre, che si... che si... c'hanno ovulo e tonali, e penso che siano dovute più che altro al contesto storico in cui è avvenuta la loro partenza dal Milan. Allora, il Milan, quando tu cambi proprietà spesso, è chiaro che tutto il contesto ne risente. Quindi il Milan cambia. Proprietà nell'aprile 2017, passando dalla storica proprietà Berlusconi-Fininvest alla parentesi 2017-2018 di Yong Gong Lee. Poi nel 2018 diventa Elliot. In tutti questi cambiamenti cambiano anche le direzioni tecniche, cambiano le aree sportive, cambiano le figure dirigenziali. E ognuno ha le sue idee, fatalmente, idee rispettabili fino a prova contraria. Chessier e Cialanoglu arrivano nell'estate 2017, la cosiddetta estate cinese. E ripeto, il rendimento dal 2017 fino all'inizio del lockdown a marzo 2020 di Chessier e Cialanoglu è un rendimento tutto sommato normale. Secondo molti tifosi all'epoca era negativo, oggi magari in molti se lo sono dimenticati, ma lo ricordo io e sapete che la memoria funziona abbastanza bene. Dopo il lockdown, con una importante preparazione fatta a Milanello, a maggio e giugno, il Milan corre tremendamente nei mesi di giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio, poi si assesta, ed è lì che c'è l'esplosione di Chessier e Cialanoglu, dopo il lockdown del 2020, quindi da fine giugno 2020 in poi. Però, essendo arrivati nel 2017, sono vicini a scadenza del contratto. Ogni dirigente, ogni uomo di calcio ha il diritto di avere i suoi gusti, le sue convinzioni, mancherebbe altro. Diciamo che Chessier e Cialanoglu non erano, diciamo, altissimi nella considerazione generale rispetto alla dirigenza che li acquisì nell'estate del 2017. Però poi la trattativa, con la loro esplosione, dopo il lockdown del 2020, iniziò. Ora, le situazioni, perché il Milan non ha più centrocampo più fuori d'Italia, quindi perché il Milan non ha che sì Cialanoglu e Tonali? Perché? Quella perché sì era una trattativa assolutamente inavvicinabile. Non si poteva discutere dal punto di vista economico. Quella per Cialanoglu è che un po' sì, un po' sì, un po' sì. Se avessimo fatto sentire Cialanoglu un po' più importante tutti, tutti, senza distinzioni, dall'altissimo al bassissimo forse sarebbe rimasto. Mentre Tonali, e ne abbiamo spesso parlato, insomma, però ne abbiamo spesso parlato dell'irrinunciabile offerta economica che è arrivata e che era sostanzialmente arrivata al Milan una volta che aveva già passato due livelli di approvazione, quella di chi la faceva l'offerta e quella dell'entourage del giocatore. Ora, come chiudo questa lunghissima riflessione che è un po' prolissa, convengo, condivido. Non vorrei che anche il centrocampo che abbiamo adesso, di Loftus-Chic, di Reinders, di Ben Nasser, dello stesso Adli, del buon Musa, del buon Pobega, adesso che ce l'ha il Milan, venga considerato tutto sommato un centrocampo da, non so voi che sia, come era il centrocampo più forte d'Italia all'epoca. Magari poi quando invece, nello scorrere degli anni, delle fasi storiche non ci saranno più, invece si diceva, ma però Loftus, Reinders, Ben Nasser, Adli erano forti, eccetera, 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 non vorrei che succeda ancora di nuovo, ecco tutto qua. Ma è, la mia non è una certezza, è una ipotesi, solamente ed esclusivamente un'ipotesi, perché ricordo come venivano trattati quelli di cui si parla bene oggi un tempo e non vorrei che la storia si ripetesse più tardi.